Tra non molto, in America ci sarà la guerra civile. Sì, vabbè, il solito catastrofista. Il miliardario americano Ray Dalio avverte che c'è circa un 33% di probabilità che gli Stati Uniti entrino in una guerra civile. Dopotutto, qualche giorno fa c'è stato l'ennesimo attentato nei confronti di Donald Trump e l'ultima tendenza tra le persone più ricche d'America è comprarsi un bunker per il giorno del giudizio con un fossato infiammabile. L'avresti mai detto? Questo è il tema di questo video. In vista delle imminenti elezioni americane ha l'obiettivo di concentrarsi su un rischio politico che molto spesso è trascurato dagli investitori. Il rischio di instabilità politica. Lo conosciamo bene in Italia, ma oggi lo approfondiremo a tutto un altro livello con tutte altre conseguenze perché la situazione è più grave a livello di instabilità politica per quanto riguarda gli Stati Uniti. Approfondiremo quanto è davvero realistico questo rischio di guerra civile negli Stati Uniti, su cosa si fondano le preoccupazioni di chi sostiene e che questo rischio non è da trascurare. Infine, quali sono i possibili impatti sui mercati finanziari e sui nostri investimenti? Perché buona parte del mio portafoglio, magari del tuo portafoglio, è esposto all'economia americana e di conseguenza dovremo essere interessati all'argomento. Nel caso non mi conoscessi, mi presento, sono Giorgio Pecorari, fondatore di Piano Finanziario, società di consulenza finanziaria indipendente. Alla data di registrazione di questo video abbiamo in consulenza clienti con un patrimonio in titoli di quasi 50 milioni di euro, patrimonio complessivo oltre 70 milioni di euro. E se vuoi capire come aiutiamo i nostri clienti a gestire in modo più efficace il loro patrimonio, non perderti questo webinar. Se è tenuto la settimana scorsa, la replica è ancora disponibile, ti spiegherà strategie avanzate per moltiplicare il tuo patrimonio. La replica la trovi pianofinanziario.it slash patrimonio e sarà disponibile ancora per una settimana. Bene, questo video sarà particolarmente apprezzato dall'account Odio l'America che si augura il default dell'America, che sarebbe un autentico sogno. Fiamme all'America, fiamme all'Europa, fiamme a tutti gli allarmi relativamente ad un rischio guerra civile negli Stati Uniti sono stati lanciati da Ray Dalio da molto tempo. Si parla di un paio di anni fa, metà del 2022, e devo dire che quando ho letto per la prima volta a questo articolo non avevo valutato attentamente il rischio. E Ray Dalio, che apprezzo molto per i suoi contenuti, ho letto molti dei suoi libri, La crisi del debito, un capolavoro, ma ovviamente non vivendo in prima persona la cultura americana, non riusciva a collegare i puntini. Ma adesso devo dire che li collego un po' di più, perché nell'arco di due mesi ci sono stati due tentativi di omicidio nei confronti di Donald Trump. Il più recente, del 15 settembre 2024, quello precedente, è del 19 luglio, quindi veramente uno ogni due mesi, e chissà cosa potrà succedere. Quindi il tema è indiscutibilmente all'ordine del giorno, perché non è cosa comune tentare di ammazzare il candidato presidente negli Stati Uniti. Cioè, va bene che ormai siamo in un contesto sociale in cui molte cose non ce ne accorgiamo neanche, ci entrano da un orecchio ed escono dall'altro. Ed è vero che gli Stati Uniti hanno dei precedenti storici, no? Tipo Kennedy. E per questa ragione penso che abbia senso appunto fare un approfondimento, perché, come dice Ray Dalio, queste elezioni sono probabilmente tra le più importanti della storia recente degli Stati Uniti. E c'è un vero rischio che si possa perdere il controllo di questa spirale di tensione, di violenza che si sta vedendo negli Stati Uniti, con tutte le conseguenze che approfondiremo più avanti nel video. Questo rischio da Ray Dalio è stimato tra il 35% e il 40%. Ovviamente sono stime, è molto difficile capire se siamo più vicini al 30% o al 40%. Il messaggio è che non è zero. A tal punto che su Statista, che è un portale che analizzo molto spesso per quanto riguarda dati macroeconomici, c'è anche proprio una voce sui rischi e le probabilità di una guerra civile che possa partire nel 2024 negli Stati Uniti. Vengono fatti dei sondaggi a delle persone. Questo è un sondaggio avvenuto tra il 16 di aprile e il 18 di aprile del 2024. Se sommiamo i molto probabili con i probabili, parliamo di un 47% degli intervistati che ritiene che una qualche tensione ci possa essere come risultato delle elezioni. E le notizie che qualche tempo fa prendevo solo così come gossip dei miliardari, cioè perché ti devi costruire davvero un bunker con un fossato infiammabile? Boh, non lo riesco a capire. Alla luce di questi dati lo ritengo quasi un ottimo investimento. Che il clima di tensione in America sia ai massimi storici è sotto gli occhi di tutti. Notizie di qualche giorno fa. Trump odio Taylor Swift, la famosa pop star che ha recentemente dichiarato il suo sostegno a Kamala Harris. E Trump è arrivato anche a minacce personali dicendo te ne pentirai di dare il sostegno a Kamala Harris. A questo si aggiunge Elon Musk, sostenitore di Trump, che dice nessuno cerca di assassinare Biden e Kamala e poco dopo cancella il post. Mi sembra che questa comunicazione stia un po' sfuggendo di mano. È sicuramente comunque il segnale appunto di questa tensione che sta ribollendo ed è questo un fenomeno che stiamo commentando adesso con articoli e venti, tentativi di omicidio, ma che di fatto è già stato analizzato. Perché è già da un po' che ci si è accorti e questo è uno studio di Pew Research Center, come al solito tutte le fonti, tutte le slide di questo video sono scaricabili gratuitamente alla fine di questo video. Ci si è accorti che la popolazione è più divisa che mai su tematiche come la discriminazione razziale, l'immigrazione, il ruolo che dovrebbero avere gli Stati Uniti nella politica estera. C'è chi sostiene che gli Stati Uniti dovrebbero essere più diplomatici e c'è chi invece sostiene un 30% che la pace, l'America, è in grado di assicurarla con la forza militare. Insomma, questo ha fatto sì che col passare degli anni, nell'ultimo ventennio, trentennio, le posizioni dei democratici e dei repubblicani si siano sempre di più allontanate e più ci si allontana, meno è possibile trovare punti d'accordo, più si assiste a un fenomeno di polarizzazione politica dell'opinione pubblica con le conseguenze che stiamo osservando adesso. Nel pdf ti lascio tutte le fonti ma ho voluto fare un riassunto perché ho dovuto leggere diversi articoli per riuscire a creare questo contenuto e ti posso riassumere così le principali ragioni di questa polarizzazione della politica. Bene, divisione ideologica tra democratici e repubblicani che si è intensificata con posizioni sempre più radicali e sempre meno spazio per il compromesso. Disinformazione e diffusione di fake news, la propagazione di informazioni false attraverso i social media alimenta sfiducia e malcontento esacerbando le divisioni. Breve parentesi di quanto vediamo nel nostro piccolo con il canale YouTube non avete idea di quanta disinformazione viene postata nei commenti di questo canale e per disinformazione non intendo opinioni personali intendo teorie del complotto che non hanno alcuna prova di veridicità che come al solito ci tengo a precisarlo non significa che non esistano i poteri forti o lobby fortissime che possono indirizzare la politica e questo è indiscutibile anzi e più andiamo avanti di più dei colossi come Google per dire è sempre più difficile riuscire a contrastare queste lobby fatte di aziende potentissime che di fatto sono delle mega realtà sovranazionali dall'altra parte che ci siano delle teorie che puntino all'affossamento dell'Italia perpetuate da italiani stessi e per di più non c'è mezza prova a sostegno bene questa è la conferma che c'è un trionfo di fake news là fuori tra l'altro non è una novità l'ingerenza ad esempio della Russia nelle elezioni americane questo appunto è stato provato ti piacciono i nostri contenuti ma non hai mai avuto il coraggio di contattarci siamo una società di consulenza e formazione finanziaria prenota un appuntamento conoscitivo gratuito con un tutor di piano finanziario prenota ora su pianofinanziario.it slash informazioni tra le altre ragioni delle tensioni negli Stati Uniti c'è un tema di crescita di gruppi estremisti l'aumento del gruppo nazionalista e suprematisti bianchi ha portato ad un incremento di episodi di violenza domestica sfiducia nelle istituzioni democratiche molti cittadini hanno perso la sfiducia nel sistema elettorale e nelle istituzioni governative alimentando sentimenti antigovernativi a questo dolce si infundo questioni razziali e sociali irrisolte le tensioni razziali evidenziate da movimenti come Black Lives Matter mostrano profonde fratture sociali non ancora risanate non so se lo ricordi ma nel 2021 il 6 gennaio del 2021 c'è stato l'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti con scene molto inquietanti sono passati tre anni e mezzo ma molti se lo sono già dimenticati sostenitori del presidente d'America uscente Donald Trump assaltano il palazzo del Campidoglio sede del congresso degli Stati Uniti per contestare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 e sostenere la richiesta di Trump al vice presidente Mike Pence e al congresso di rifiutare la proclamazione di Joe Biden a 46esimo presidente non so se ti ricordi queste scene di rivolta all'interno del Campidoglio americano oppure questa che a me personalmente hanno inquietato abbastanza tra l'altro questo fenomeno dell'estrema polarizzazione politica è un tema che era già emerso in un documentario molto interessante che ti invita a guardare se vuoi capire meglio cosa sta succedendo nel mondo e soprattutto l'effetto delle tecnologie in questa estrema polarizzazione politica perché hanno un ruolo importantissimo ti invito a guardare The Social Dilemma che è un documentario che è uscito qualche anno fa che mostra proprio come le nuove tecnologie idee polarizzanti fake news stanno creando un po' le condizioni perfette per questo fenomeno proprio perché le persone vivono nella bolla degli algoritmi e magari te ne sarai già accorto che quando guardi un contenuto con una determinata idea o con un determinato tema di fondo gli algoritmi tendono a proporti contenuti coerenti con quello che hai già guardato di fatto rendendo impossibile anche il valutare idee alternative il valutare l'idea opposta e crearti tu una tua idea questi sistemi gli algoritmi con i quali conviviamo e che utilizziamo quando utilizziamo social media di fatto ci fanno rimanere all'interno della nostra bolla di idee che magari è completamente sbagliata perché si basa su fake news ma difficilmente riusciamo ad accorgersene perché non riusciamo a trovare opinioni che smontano la nostra tesi che mettono in discussione le nostre idee perché la complessità del mondo è fatta non di bianco nero ma di sfumature di grigio ahimè e certi fenomeni non sono attribuibili ad una sola causa ma ad una moltitudine di fattori purtroppo le persone cercano la soluzione semplice gli algoritmi la offrono non c'è la possibilità di mettere in discussione delle idee perché tu continui a vedere quei contenuti guarda The Social Dilemma perché una delle minacce degli scenari apocalittici che ritengono poco probabile ma comunque possibile è il rischio di una guerra civile in qualche modo un documentario premonitore bene e questo è lo scenario degli Stati Uniti ma uno potrebbe dire ma questo è un canale di finanza personale di investimenti ma a me cosa interessa dopo tutto è il sogno di tutti il default degli Stati Uniti no? parliamone nel senso che siamo investitori siamo investitori nei mercati globali quantomeno se non lo sei contattaci per esserlo ma i nostri clienti lo sono io lo sono buona parte dei portafogli hanno un'esposizione agli Stati Uniti magari diretta con azioni singole in diretta con fondi comuni di investimento etf abbiamo dei clienti che hanno comprato degli immobili negli Stati Uniti ti garantisco che c'è un interesse a far sì che il proprio investimento non abbia delle ripercussioni e quindi ci interessa capire le implicazioni di questo fenomeno sui nostri investimenti negli Stati Uniti qualcuno potrebbe dire io sono in sicurezza sto investendo il 100% del mio patrimonio nell'S&P 500 eh ma l'S&P 500 è impattato da questi fenomeni non direttamente non vi è alcuna certezza ma se la situazione degenerasse sicuramente ci sarebbe un impatto e vedremo tra poco e allo stesso tempo qualcuno potrebbe dire ma io la borsa americana l'ho abbandonata da anni ormai non ci investo più tanto hanno anche valutazioni elevate sì hanno le migliori aziende del mondo in termini di redditività e di in termini di marginalità e ne abbiamo parlato in questo video se te lo sei perso valla a rivedere in cui commentiamo il piano Draghi gli Stati Uniti hanno i loro problemi ma hanno un sistema economico finanziario che stimola lo sviluppo di società innovative che hanno grandi marginalità che sono diventate dei colossi a livello internazionale a tal punto da avere una forza lobbistica tale da piegare la forza politica quindi anche la scelta di abbandonarla completamente non è molto condivisibile quindi che fare? bene ho fatto una serie di riflessioni su questo tema che adesso voglio condividere che hanno l'obiettivo di farti capire possibili scenari ovviamente nessuno può saperlo che cosa si potrebbe verificare ok però ragionando per massimi sistemi provando a vedere che cosa è successo in altri contesti provando ad analizzare altri paesi che hanno rischio politico no? tipo l'Italia che ha una sua instabilità politica non c'è rischio di guerra civile perché l'italiano non protesterà mai è succube del sistema ma non protesterà mai chiusa la parentesi polemica ovviamente in modo civile e pacifico però sicuramente noi sappiamo cosa vuol dire il rischio politico e soprattutto l'impatto che ha sul nostro patrimonio immobiliare e finanziario entrambi con scarse redditività nel medio e lungo periodo bene quali sono i rischi che potrebbe vedere una persona che ha una posizione nel mercato azionario americano piuttosto importante beh ovviamente ci fosse un aggravarsi delle tensioni politiche la prima cosa che vedremo è un aumento della volatilità sui mercati i mercati potrebbero reagire male ad uno scenario di questo tipo e aumentare la volatilità quindi potremmo vedere un aumento del VIX potremmo vedere un aumento della volatilità giornaliera perché gli investitori percepirebbero l'incertezza politica come un rischio e quindi questo potrebbe portare a vendite su classi di investimento su titoli percepiti come più rischiosi e quali sono tipicamente l'azionario che cosa è percepito meno rischioso tipicamente l'obbligazionario i titoli di stato americani è però difficile capire in questo contesto se potrebbero avere il ruolo di fly to safety di porto sicuro in una condizione di questo tipo sicuramente ci sarebbero impatti su settori specifici quali sono i settori specifici che potrebbero andare più in difficoltà beh tipicamente consumi e bene di lusso perché appunto se cambia il clima all'interno della società cambia la propensione al consumo e tutto ciò che si può tagliare potenzialmente potrebbe essere non dico tagliato completamente ma ridotto in modo importante perché le persone magari spostano l'attenzione al bunker alla protezione personale che non a comprarsi bene di lusso altro tema importante fuga di capitali quindi uscita da varie classi di investimento azioni quindi magari ce l'auguriamo tutti un maggiore interesse verso l'azionario europeo non lo so sicuramente molto trascurato negli ultimi anni l'azionario emergente nessuno ha la garanzia che questo possa succedere ma magari è anche la condizione che porta gli investitori globali a spostare il focus su altre economie su altri mercati finanziari che sono stati trascurati dagli investitori negli ultimi 10-15 anni circa a questo si aggiunge verosimilmente un indebolimento del dollaro specialmente se una crisi di questo tipo indebolisse ulteriormente la fiducia nella stabilità del governo americano il resto del mondo passerebbe indenne tensioni sui mercati finanziari associata a questa problematica difficile dirlo perché gli Stati Uniti hanno comunque un ruolo centrale nell'economia globale essendo la prima potenza economica del mondo quindi ci potrebbero essere comunque ripercussioni sui mercati internazionali e quindi volatilità un po' su tutte le classi di investimento con un rischio associato perché in contesti di questo tipo tipicamente l'investitore diventa risk off cioè pensa ok ci sono problemi maggiori ma che senso ha che mi prenda questa azione particolarmente speculativa andiamo a concentrare il patrimonio su qualcosa di più sicuro tipicamente anche oro titoli di Stato di paesi molto solidi perché non ci sono le condizioni per prendersi rischi questi sono ragionamenti che molto spesso gli investitori fanno in contesti di particolare incertezza ultima considerazione impatto su tassi di interesse e inflazione se l'instabilità dovesse creare incertezza economica che oggi non c'è o comunque molto limitata ne parleremo nel prossimo video iscrivete al canale per non perdertelo in cui commenteremo i dati dell'economia americana e le ultime politiche della Fed bene la Fed in condizioni di incertezza economica potrebbe mantenere bassi i tassi di interesse per stimolare l'economia il che potrebbe sostenere il mercato azionario nel breve periodo ma potrebbe portare a pressioni inflazionistiche quindi maggiore difficoltà a contenere l'inflazione insomma questo non è un rischio solamente americano per il ruolo che hanno gli Stati Uniti nell'economia globale e nei portafogli di un investitore che vuole avere un'esposizione globale non solo nazionale o nel Fuzzimib non è un problema solo loro è qualcosa che deve essere monitorato al momento per quanto ormai riteniamo naturale che ci possano essere due tentativi di assassino del candidato presidente degli Stati Uniti nell'arco di due mesi però in qualche modo sembra che l'opinione pubblica americana lo consideri naturale fa un certo effetto vederlo quindi viene da dire che tutto sommato è un rischio sotto controllo ma come hai visto le probabilità di guerra civile non sono zero e quindi è qualcosa da monitorare attentamente se vuoi scaricare il pdf di questa presentazione trovi il link da qualche parte in questa pagina è gratuito se vuoi capire meglio perché gli Stati Uniti hanno un'economia che ha battuto quella europea nell'ultimo ventennio non perderti il mio commento al piano Draghi che trovi sempre in questa pagina grazie 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 grazie